La retrocessione della scorsa stagione è ormai un lontano ricordo per la Beccheri che si appresta a vivere la prima serata della lunga serie di semifinale che vedrà opposti i biancorossi a 100. Una sfida che andrà in scena domenica alle 18 e martedì alle 20 e 30 in entrambi i casi al Palabeccheri. Vantaggio ottenuto grazie al primo posto al termine di una regular season di serie B chiusa con uno straordinario crescendo e che ha trascinato letteralmente il tifo piacentino. Una crescita costante è frutto di un gruppo di ferro, giusto mix tra giovani e soprattutto veterani tra cui Giovanni Gasparin, tra i migliori nelle classifiche individuali di regular season. La spinta che ci dà il pubblico è fondamentale, soprattutto adesso che ogni partita conta al massimo. Ma sei uno dei senatori qui dentro? Sì, più o meno dai. Lo spogliatoio comunque è molto unito, non ci sono leader, non ci sono giocatori fondamentali. Tutti a disposizione gli uomini di coach Bizzozzi che arrivano a gara 1 dopo quasi 10 giorni di riposo. Dal punto di vista atletico la squadra sembra godere di ottima salute. Sarà ovviamente Luca Bedetti il pericolo numero uno tra le fila romagnole. Un'attesa lunga, avremmo preferito giocare subito. Ovviamente tutti aspettiamo le partite, adesso il tempo delle partite, non degli allenamenti, per quanto poi ci si debba comunque allenare. Cento è una squadra molto ben attrezzata, una di quelle che poi puntano ad arrivare fino in fondo. Infatti è dimostrato anche nel girone di stagione regolare che vale i primi quattro posti. C'è stato un bel connubio direi quest'anno tra squadra e pubblico e miauro che riusciremo a dare ancora soddisfazioni a loro, al club, a tutti quelli che ci seguono e che fanno il tifo per noi.